Come è andata la prova stamattina? Allora, di base siamo più contenti rispetto a ieri perché noi poi siamo due team, abbiamo fatto il team leader in due quindi ieri io mi sono piaciuto tanto, la squadra in generale non ci siamo piaciutate oggi siamo andati meglio, un po' se non si esistono Ma avete trovato più difficile la prova di oggi o la prova di ieri? Beh, allora, diciamo Sì, quello sicuramente se n'è andato e poi come difficoltà, secondo me la seconda e la terza erano abbastanza sensibili forse la terza Sì, rispetto alle prime sicuramente quella del terzo Però non c'è un caso Sì, ma non bisogna comunicare in più Sto notando una caratteristica particolare di voi, squadra della Sapienza Umberto I Cioè c'è una fortissima presenza maschile Le altre squadre sono quasi tutte femminili, tutte donne quasi al completo E' un po' una cosa che succede nella mediatria almeno soprattutto La nostra esperienza polichinico per il primo Siamo sempre in ignoranza E' una cosa che è una cosa che la pediatria è proprio notabile Anche se il terzo si sta invertendo Progressivamente a modo qua non stanno aumentando i ragazzi Nelle varie classi Quindi magari lo specchio di un terzo futuro Ai prossimi Pediatric Simulation Games saranno magari più uomini Bene, allora vi facciamo l'in bocca al lupo per la prova di oggi pomeriggio Bene, allora vi facciamo l'in bocca al lupo per la prova di oggi